TG Vicenza Sentiamoli insieme. TG Vicenza La vigilia di Ferragosto a Venezia, la fase 1 con i sindaci che si ritrovano attorno ad un tavolo per capire quali siano i margini per convincere il governo a tornare sui propri passi. Devo essere ottimista perché non posso pensare che avendo già fatto dei bandi, assegnato lavori, iniziati lavori e speso dei soldi, qualcuno ce li venga a chiedere indietro, questo non esiste. E quindi faremo quadrato sicuramente come sindaci del Veneto per far sentire la nostra voce attraverso i parlamentari. La verità tra 15 giorni quando il provvedimento sarà esaminato dalla Camera dei Deputati. Campo Marzo resta purtroppo una zona pericolosa della città. Campo Marzo resta una zona pericolosa della città, a dirlo non uno qualsiasi ma l'assessore della giunta di Francesco Rucco, Matteo Celebronna che è anche segretario della Lega di Vicenza. Parole quelle di Celebronna che non nascondono l'insofferenza per la condizione attuale di Campo Marzo, area di bivacco per gli sfaccendati o addirittura zona di scambio di stupefacenti, come rivelano le continue operazioni delle forze dell'ordine. La colpa della condizione in cui si trova Campo Marzo, secondo Celebronna, è da imputare alle giunte precedenti, ma ora assicura si cambia musica. Non ci sono mai state soluzioni e solo chiacchiere, noi intendiamo in questi 5 anni di amministrazione cambiare Campo Marzo, cambiare del tutto quelle attività che si possono fare a Campo Marzo va rivitalizzato ma ci vuole tempo. Insomma su Campo Marzo garantisce non perderemo tempo e entro breve i risultati concreti si vedranno. Siamo convinti che riusciremo a dare delle risposte concrete ai cittadini che su Campo Marzo vogliono che torni ad essere un parco dei vicentini, un parco della città. Nel frattempo le operazioni di polizia, carabinieri e vigili urbani continuano senza soluzione di continuità. Gli operatori del 118 ce l'hanno messa tutta, come sempre, per tentare di salvare la vita di Gianfranco Zaltron, 71 anni, di Vicenza, per quasi 40 anni, geometra comunale e fratello di Liliana, ex consigliera di Palazzo Trissino. L'uomo è stato travolto in sella alla sua bici in viale risorgimento a poca distanza dalle scalette di Monteberico da un Alfa 147. Il massaggio cardiaco è durato poco, Zaltron era già in fin di vita all'arrivo dell'ambulanza. La conducente della macchina era sotto shock, non si dava pace per quello che le era appena successo. Auto e bici procedevano nella stessa direzione, forse una manovra improvvisa del ciclista verso sinistra o una sbandata proprio davanti all'auto ed è stato impossibile evitarlo. Un gran colpo sul parabrezza, poi quello sull'asfalto. Il tutto è successo verso mezzogiorno e un quarto, lungo un'arteria stradale pericolosa per le biciclette, sotto gli occhi di alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi. L'automobilista che aveva a bordo i figli è stata raggiunta sul posto dal marito. La polizia locale, giunta con due pattuglie, ha eseguito i rilievi del sinistro. Il sindaco Rucco ha espresso le condoglianze dell'amministrazione comunale alla famiglia del geometra e in particolare a Liliana Zaltron. È una tua posizione rassista, hai capito? Avevamo lasciato i cittadini di Longare molto preoccupati per il possibile arrivo di 17 migranti nell'ex canonica di San Mauro Abate. L'operazione sarebbe potuta arrivare a compimento e nell'assoluto silenzio, senza cioè il coinvolgimento dei residenti che in estremi si erano costituiti un comitato con precise richieste. Il comitato che ha lavorato proficuamente per arrivare ad una maggiore trasparenza e di informazione. Su questo abbiamo, come dire, sollecitato i nostri amministratori ad agire di conseguenza. Il sindaco di Longare aveva pubblicamente annunciato in quella coincitata assemblea che il comune avrebbe condiviso l'esperienza del vicino comune di Castegnero, più esperto in tema di accoglienza. La prefettura, inoltre, aveva indicato un termine temporale preciso per identificare un luogo idoneo. Al momento, invece, tutto ancora tace. Visto che il silenzio degli amministratori aveva già sollevato molti sospetti, siamo andati a chiedere a che punto siano le cose. Beh, noi abbiamo presentato al Ministero dell'Interno, abbiamo partecipato al bando SPRAR. La novità rispetto a quella sera è che accanto al comune di Castegnero e di Longare si è aggregato anche il comune di Arcugnano e quindi noi abbiamo presentato un progetto di un'ospitalità diffusa per 36 profughi. La progettualità è stata presentata nei termini, quindi entro la metà del mese di aprile. Siamo ancora in attesa della risposta del Ministero, quindi della pubblicazione del bando del finanziamento. Da lì ci muoveremo appunto per partire con l'idea di questo SPRAR, questa accoglienza di secondo livello. Il Sindaco resta convinto della bontà della strada intrapresa. Con la clausola di salvaguardia c'è anche la possibilità che non vengono appiundo altri profughi rispetto a quelli coordinati. La truffa cosiddetta del catalogo viene effettuata da questi criminali in varie declinazioni. È un primo livello in cui c'è la telefonata di una signorina molto delicata, molto gentile, che chiede alla signora, generalmente casalinghe pensionate anziane, c'è quindi una scrematura anche delle persone destinatari di questa truffa, in cui si dice, guardi, noi siamo una ditta che vende per catalogo come faceva Postal Market, Vestro, quindi dei cataloghi seri che esistevano anni fa, e vorremmo semplicemente venire a darle il nostro catalogo se volesse magari un giorno ordinare da noi. Oppure l'esca è l'estrazione a sorte di una scheda per sconti da consegnare al malcapitato, o ancora un'estrazione a sorte per degli omaggi. In questo modo le vittime abbassano le difese. Non c'è nulla da pagare, omaggi, sconti, un catalogo che mai sarà, e così accettano l'appuntamento in casa. Al campanello suonano dei giovani che portano con sé il catalogo, dalle 4 alle 50 di pagine, chiedono di apporre una firma come ricevuta. Tutto avviene in velocità, spesso anche nel giardino di casa. Non c'è questa smania di entrare nell'abitazione, e questo naturalmente rassicura le persone. Allora fanno la firma su questa velina, il contratto è su una carta velina che occupa pochissimo spazio. Velina che viene dimenticata dalla vittima. Decorono i 14 giorni per il diritto di recessa e poi inizia il calvario. Arrivano due individui che con piglio deciso chiedono se la malcapitata ha deciso cosa comprare, perché alla fine quella velina firmata alla consegna era tutt'altro. Aveva sottoscritto un contratto di acquisto vincolato da 3.000 fino a 6.000 euro. L'allarme è stato lanciato dagli avvocati ancora a metà luglio. La giustizia fa acqua da tutte le parti. Non parliamo da un punto di vista normativo, ma proprio strutturale. Se si è incrementato il numero dei magistrati ed è stato introdotto il processo telematico, dall'altro si è fatta cronica la carenza di personale amministrativo, mentre i palazzi di giustizia sono diventati malati cronici. Si sono fatti sicuramente dei progressi, il processo telematico ha aiutato molto. C'è ancora tanta strada da fare sicuramente. In questo momento una delle emergenze è per esempio l'edilizia giudiziaria, perché non si è provveduto alla manutenzione delle sedi dei palazzi di giustizia, quindi anche questa è un'emergenza. Serve un impiego di risorse in un settore fondamentale, come dicevo. E Vicenza ne sa ben qualcosa. Borgo Berga soffre di problematiche endemiche, dall'allagarsi quando piove, il pavimento sconnesso all'ingresso e tanti altri piccoli disagi. E poi c'è stato l'avere inglobato il Tribunale di Bassano, che ha portato ad un aumento esponenziale dei procedimenti senza le opportune risorse. Sostanzialmente l'unione dei due tribunali non ha significato un aumento dell'organico, per cui un organico che era sufficiente forse a Bassano, poi giunto a quello di Vicenza non è stato sufficiente per completare tutto il lavoro che è necessario. Per gli avvocati la questione personale ha un'unica soluzione. Il problema si risolve solo strutturalmente con concorsi a livello ministeriale. Le soluzioni ottime e di emergenza adottate, che sono quelle di personale proveniente da altre amministrazioni, è una soluzione di tampone, ma non serve a risolvere a lungo termine la questione. Noi abbiamo provato a chiamarlo, tutto il resto, però non rispondeva. Comunque dalle immagini abbiamo... qualcosa avevamo intuito, poi non rispondendo sapevamo che la tratta era quella e speravamo sempre che fosse vivo. C'era anche lui nell'inferno di cemento e la miere di Genova, Vincenzo Licata, 58 anni, autotrasportatore, originario di Grotte in provincia di Agrigento, ma vicentino d'adozione dalla fine degli anni Ottanta. Una speranza che si è infrante irremediabilmente quando a suonare alla porta di casa sono arrivati gli agenti della polizia di Vicenza, che hanno comunicato alla famiglia che Vincenzo non ce l'aveva fatta scampare al crollo del ponte Morandi. Si è trovato nel posto sbagliato, è un momento sbagliato. Doveva rientrare quando? In serata, perché era comunque Ferragosto, voleva approfittare degli ultimi giorni prima delle feste, poi doveva stare a casa un paio di giorni per stare con mia mamma. Era partito lunedì per quello che doveva essere l'ultimo viaggio prima di Ferragosto. L'impegno di quel giorno della cooperativa di trasporti di cui era socio era un carico d'acqua dal Piemonte a Livorno, passando per quel maledetto ponte, una strada che conosceva bene, ma il destino questa volta ha deciso per lui. Una cooperativa aperta da non molto dopo anni come dipendente pubblico alle poste di Vicenza e il miraggio della pensione per poi potersi dedicare alla sua passione. Amava la musica, infatti lo conoscono tutti, tantissime bande, Vicenza, Verona, la donata degli Alpini, andava sempre. In serata la moglie Filomena Moulet con i figli Laura e Stefano, 30 e 26 anni, e il nipote Salvatore Moulet partiranno alla volta di Genova per i funerali di Stato, poi il rientro a Grotte nella sua amata Sicilia, ma non mancherà una cerimonia in suo ricordo anche per tutti gli amici di Vicenza che lo conoscevano. Lo stesso primo cittadino Francesco Rucco ha espresso le proprie condoglianze e quella dell'intera città alla famiglia di Vincenzo Licata. Dopo quanto caduto a Genova, anche il Comune di Vicenza ha puntato i riflettori sullo stato di salute delle sue infrastrutture. Nessun allarme, ma le situazioni non vanno sottovalutate. Per questo l'amministrazione ha già destinato nel programma triennale dei lavori pubblici circa milioni di euro, proprio per le manutenzioni di alcune importanti infrastrutture. Nemmeno il tempo per l'opposizione, attraverso il consigliere Raffaele Colombara, di presentare un'interpellanza in cui si chiede una verifica immediata dello stato di salute delle infrastrutture e che il Comune di Vicenza si faccia capofila, anche per una verifica a livello provinciale, che il sindaco Rucco ha avviato la macchina comunale per monitorare due importanti strutture, Ponte Alto e Ponte Ferretto De Ferretti. Quest'ultimo, peraltro, è interessato dai lavori per l'alta velocità. Il suo destino è a essere smantellato, ma nel frattempo segue una costante ricognizione. Ho chiesto un intervento di ulteriore verifica dopo il 2017, dove sono state fatte le prove di carico, e già da oggi i tecnici si sono messi in moto per verificare. È un atto vergognoso di persone vili che si nascondono dietro ad una bomba, a due bombe, come hanno verificato poi gli artificieri. È una vergogna perché attaccano le idee di un partito che è stato democraticamente eletto e attaccano probabilmente il buon governo di Matteo Salvini. La violenza non ci fermerà gli feco, l'onorevole Eric Pretto. La Lega è un movimento sano e forte, unito e compatto, scrive in una nota, e non si farà certamente intimidire da azioni vergognose. Intanto, dopo l'attentato che ha colpito la sede simbolo del movimento in Veneto, il K3 di Treviso, è arrivato l'ordine di rafforzare il servizio di sicurezza attorno alle sedi del partito in tutta la regione. diventate oggi, più che mai, con la Lega, il governo obiettivo sensibile. Sicurezza che al momento si concretizza con passaggi quotidiani, frequenti di pattuglie delle volante davanti alle sedi, pronti ad intercettare situazioni o soggetti sospetti. Allertate anche gli stessi addetti alle segreterie, affinché prestino particolare attenzione ad eventuali buste o pacchi di dubbia provenienza. Ma non sono solo le sedi istituzionali ad essere assoggettate a maggior sicurezza anche gli uffici politici o di rappresentanza degli onorevoli della Lega eletti alla Camera e al Senato. Dallo stesso Eric Pretto alla ministra Erika Stefani saranno così monitorati costantemente dalle forze dell'ordine, confidando che l'attentato non sia un escalation per nuove e più pericolose azioni. Controlli di vicinato. Fra qualche mese anche Vicenza, come già altre città del Veneto, potrebbe vedere spuntare nei quartieri cartelli come questi e avere un'app dedicata sul proprio cellulare. Il nuovo pacchetto sicurezza dunque approda anche nei quartieri. In via all'Iende la presentazione del giro di vite del nuovo governo cittadino. Dopo il presidio fisso a Campomarzo si passa la vigilanza nelle aree residenziali che mal digeriscono, soprattutto in questa zona, la presenza di cittadini stranieri. Venono, si ammazzano fino alle 2-3 di notte, soprattutto nella parte finale di via all'Iende e quando sono ubriachi non li controlli più. Sia rientrare alla sera, non siamo sicuri di niente. Forse non ti fanno assolutamente niente, però passare in mezzo a una trentina, 40 persone insomma non è proprio simpatico. Il pacchetto illustrato prevede l'innesto di una decina di poliziotti alla squadra della municipale ad oggi composta da 115 vigili e nuove telecamere. Qui via Allende e via Gandhi sono le due zone critiche della città dove c'è spaccio e non solo e quindi abbiamo chiesto l'intervento delle telecamere per videosorveglianza. Abbiamo già messo da parte 70.000 euro per l'acquisto delle due telecamere. Una terza con aiuti regionali arriverà su Monteberico. E poi a completamento del pacchetto l'avvio della vigilanza di prossimità, quella fatta dai cittadini, con un referente al quale segnalare le problematiche e che potrà mettersi direttamente in contatto con la municipale. Fondo per i risparmiatori delle ex banche popolari, tutto pronto e tutto fermo. Manca il decreto attuativo rimasto impantanato nella palude fra Ministero dell'Economia e Palazzo Chigi con il passaggio fra vecchio e nuovo esecutivo. È un testo anche sufficientemente semplificato che avrebbe avuto il diritto di essere già pubblicato in gazzetta ufficiale per renderlo esecutivo. Questa è la grave cosa su cui ancora stiamo battagliando. Il ponte del risparmio non è messo in sicurezza. E questo è l'ultimo ponte del risparmio. Attenzione che siamo in estremo pericolo. Attuazione subito del decreto attuativo. Il governo è alla ricerca di 400 milioni di euro per rimpolpare il fondo salva risparmiatori. L'obiettivo sacrosanto è di moltiplicare per 5 l'attuale dotazione di 100 milioni di euro in 4 anni stanziata dal governo Gentironi. Risorse destinate per il momento ai titolari di obbligazioni anche nelle oramai fallite popolari di Vicenza e Veneto Banca. Ma che il governo, conte, vorrebbe allargare anche gli azionisti che hanno visto azzerare il loro investimento. Ma le associazioni che stanno seguendo la vicenda, tutte riunite oggi a Padova, chiedono invece e intanto di dare attuazione a questo decreto. E subito. Abbiamo un caso per esempio di una pensionata che aveva tutta la liquidazione del marito investita in azioni e purtroppo adesso si ritrova a zero, addirittura con problemi proprio di quotidianità. Queste erano le notizie per quanto riguarda la provincia di Vicenza e il nostro comune. Naturalmente i fatti più importanti della settimana che si è appena conclusa. Io vi ringrazio per la vostra cortesa attenzione, per essere stati in nostra compagnia e vi auguro un buon proseguimento. Ci vediamo presto. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it Le previsioni per domani. Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo modesta attività cumuliforme e pomeridiana sui rilievi, dove sarà possibile qualche rovescio o temporale. Valori termici pressoché stazionari. Frattin Auto a Cassola. Consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza. www.frattinauto.it